Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it Quest'oggi parliamo dei sottotitoli in Adobe Premiere Pro Vedremo come sottotitolare un video Continua questo che è il corso introduttivo ad Adobe Premiere Pro Sono tutte lezioni che ormai vanno avanti da un annetto Introduttive per insegnare a chi non ha mai utilizzato Premiere Come funziona Premiere Ovviamente il corso sta arrivando alla conclusione Tra qualche lezione parleremo dell'export per vedere come si esporta finalmente un video E tireremo un po' le conclusioni di questo corso Ma parlare dei sottotitoli credo sia molto importante Perché oggigiorno sempre più persone, soprattutto sui social network Guardano i video senza ascoltare l'audio Una volta si utilizzavano i sottotitoli per permettere ai non udenti Di comprendere quello che accadeva all'interno del video Quest'oggi la necessità è anche quella di dare la possibilità a chi è in movimento Quindi è in viaggio, in metropolitano, sugli autobus Di seguire i contenuti dei video senza necessariamente ascoltare l'audio Ecco perché è importante anche oggi e per tutti, non solo per gli amici non udenti Avere dei video che siano sottotitolati Soprattutto se li condividete su Facebook O su Youtube Voi direte perché i tuoi tutorial non sono sottotitolati? Non è proprio vero Perché Youtube permette in automatico Di generare dei sottotitoli automatici Quindi probabilmente se fate caso qui sotto C'è la rotellina delle opzioni di Youtube Troverete anche la possibilità di abilitare i sottotitoli automatici di questi video tutorial È chiaro che scrivere a mano i sottotitoli è lungo Ci vuole tempo Richiede molto tempo e molta pazienza Non è difficile ma ripeto ci vuole molta pazienza Bene, vedremo come fare con Adobe Premiere Pro Prima però vi ricordo www.fabioambrosi.it Sito dove troverete l'indice con tutti gli argomenti di questo corso introduttivo ad Adobe Premiere Pro Troverete anche il corso introduttivo ad After Effects per chi fosse interessato C'è questo canale Youtube Se vi fa piacere iscrivetevi per non perdere anche i prossimi tutorial E cercatemi su Facebook La pagina da cliccare è sempre quella Fabio Ambrosi Mettete un clic lì E lì avrete tutte le novità Prossimi tutorial, prossime iniziative e quant'altro Bene, per vedere come funzionano i sottotitoli Faccio ricorso ad un trailer che montai tempo fa Per un programma televisivo ancora non andato in onda Quindi un po' un'anteprima Però diciamo che in realtà questi trailer sono già disponibili da diverso tempo online Quindi posso farveli vedere E sfrutterò appunto questo trailer Sì, fatto di Anomalie e l'Italia Occulta Un programma sul ghost hunting italiano Per mostrarvi come inserire rapidamente e come gestire i sottotitoli Bene, il trailer Il GEP è un gruppo di persone appassionate di paranormale Che nel 2000... È questo, adesso non ve lo mostro tutto Ma ipotizziamo di voler sottotitolare quello che accade in questo trailer Come si fa? Allora, innanzitutto c'è da dire che La traccia dei sottotitoli è un oggetto multimediale a tutti gli effetti Così come è un oggetto multimediale la clip video, la clip audio o la grafica Allo stesso modo Diciamo Gli sottotitoli sono dei veri e propri oggetti Presenti e che saranno poi gestiti in timeline Come tutti gli altri oggetti Come si inserisce un sottotitolo Avete due possibilità tra cui scegliere La prima è quella di andare nel pannello progetto Andare qui nell'iconcina che ci permette di creare nuovi elementi Oppure fare tasto destro su uno spazio vuoto del progetto Nel mio caso è un po' difficile trovare uno spazio vuoto Ecco, forse qui Scegliere la voce nuovo elemento E poi c'è la voce sottotitoli Un'altra soluzione ovviamente è quella che prevede di passare per il menu File, Nuovo e Sottotitoli Ok, quindi scegliete il vostro modo preferito Sono tre quindi le possibilità Pannello, progetto, iconcina per creare nuovi elementi Oppure il menu File, Nuovo e ancora una volta Sottotitoli Qualunque sia stata la vostra scelta Facciamone una, qualunque Quindi Nuovo, Elemento, Sottotitoli Qualunque è stata la vostra scelta vi troverete davanti a questa finestrina Questa finestrina che ci permette di scegliere quale standard di sottotitoli utilizzare nel nostro progetto Ora non mi dilungo troppo sugli standard presenti sul mercato per quanto riguarda i sottotitoli Sappiate che esistono molti standard utilizzabili Alcuni sono Broadcast, altri sono Meno Broadcast, altri sono Open Quindi di pubblico dominio Sappiate soltanto che per quello che dobbiamo fare noi Lo standard che utilizzeremo è quello dei sottotitoli aperti Perchè? Perchè questo è uno standard che con semplicità ci permette di modificare il tipo di font, la grandezza del font, il colore del font e altri parametri Ovviamente dobbiamo scegliere la velocità, la base temporale della nostra timeline Scegliamo la larghezza e l'altezza, quindi la risoluzione che avranno i nostri sottotitoli La proporzione dei pixel E clicchiamo su ok Vedrete che viene creato un nuovo oggetto, un oggetto sottotitoli Che noi andremo a mettere in timeline Così come faremo con qualunque altro oggetto multimediale Che abbiamo imparato ad utilizzare in questi mesi di corso in Adobe Premiere Vedete che è una clip a tutti gli effetti Con una particolarità, se io ingrandisco questa clip Noto che c'è una barra nera Questa barra nera non è altro che il testo ospitato all'interno di questo oggetto multimediale Come faccio ad editare un sottotitolo? Bene, faccio doppio clic su questo oggetto multimediale presente in timeline E mi viene aperto il pannello dei sottotitoli Un altro modo ovviamente è quello di andare nel menu finestra E scegliere la voce sottotitoli Che in questo caso risulta essere già aperta E quindi non ho necessità di riaprirla nuovamente Ovviamente l'elemento dei sottotitoli deve essere selezionato Altrimenti non troveremo nulla Quello che avete qui è sostanzialmente un pannello con degli strumenti Che ci permettono di modificare il nostro sottotitolo Quindi io posso andare ad inserire una scritta per esempio Ciao a tutti Vedete che qui nel monitor programma viene in tempo reale aggiornato il sottotitolo Posso modificare la grandezza del carattere Il colore del carattere Vedete posso modificare Vogliamo fare questo carattere rosso per esempio Eccolo qui Abbiamo il carattere rosso Possiamo scegliere il font da utilizzare Ovviamente la grandezza del carattere La disposizione del carattere Nell'economia dell'intero frame Qui l'ho messo in alto al centro Cliccando qui la metto in basso al centro E così via Riportiamo questo sottotitolo in bianco E come poterlo sincronizzare con la nostra clip Bene, se fate caso Questa clip, questo oggetto multimediale in timeline Ha questa barra nera Questo come dicevo è lo spazio in cui va a finire il nostro titolo Notate come qui sono presenti delle manigliette Vedete queste manigliette Alla fine della barra nera Queste maniglie ci permettono di diminuire O aumentare la durata del nostro sottotitolo Oppure cliccando in qualunque punto della barra nera E trascinando posso muovere il sottotitolo stesso Facciamo un esempio pratico così Capite cosa sto dicendo Ascoltiamo quello che accade E proviamo a sottotitolare un pezzettino del trailer Il G-Up è un gruppo di persone Ok, il G-Up è un gruppo di persone Quindi io seleziono il mio sottotitolo E scrivo Il G-Up è un gruppo di persone Fantastico Vediamo dove comincia questa frase Qui Quindi lo trascino leggermente indietro E vediamo fin dove farlo durare Il G-Up è un gruppo di persone Perfetto Qui finisce Quindi fino a qui posso farlo durare Noto subito che c'è una barra Uno sfondo nero Che può essere fastidioso Come si rimuove questo sfondo nero? È semplice Nel nostro sottotitolo Troverete questa che è l'opzione per No, scusate Questo che è l'opzione per lo sfondo La seleziono Porto la densità dal 100% O meglio l'opacità dal 100% a 0 E vedrete che il nostro background Sparisce Ok? Quindi prendete un po' confidenza Con queste opzioni Non sono difficili da comprendere E da utilizzare Bene Torniamo a noi Dicevo Aggiunto il primo sottotitolo Il G-Up è un gruppo di persone E voglio aggiungere un altro sottotitolo Come si fa? In fondo Qui Al pannello dei sottotitoli Trovate un tastino Con una più Clicco sopra la più Viene aggiunto un nuovo sottotitolo E nel nostro oggetto multimediale In timeline Viene aggiunto un nuovo spazio Che noi possiamo popolare con altro testo Quindi Persone appassionate di paranormale Fantastico Appassionate di paranormale Quindi seleziono Il mio oggetto testo Nell'elemento sottotitoli in timeline E scrivo Appassionate di paranormale Fantastico Anche questo testo dovrò Farlo entrare a sync con la voce Quindi ascoltiamo Appassionate Appassionate entra un pochettino dopo Questo anche lo possiamo allungare Vediamo come gira Persone appassionate di paranormale Fino a qui quindi Vado avanti con il testo Ed ecco che ho sottotitolato Un pezzettino di clip Di teaser Meglio ancora Di trailer Guardate Guardate Il GEP è un gruppo di persone Appassionate di paranormale E così via per tutta la durata del nostro video Chiaramente è un lavoro lungo 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 Ci vuole molta pazienza Ma arrommatevi di pazienza Vedrete che alla fine è più meccanico come lavoro Che complesso e difficile Un consiglio importante Un errore che vedo fare spessissimo Evitate di O meglio evitate Fate in modo che i vostri sottotitoli Per quanto possibile Abbiano un bordo Un bordo un pochettino più scuro Perché altrimenti se avete delle immagini bianche Il bianco sul bianco sparisce E chi deve leggere Farà sicuramente fatica Quindi fate un po' di prove Testate Giocate con questi valori E vedrete che poi alla fine è più semplice a dirsi O meglio è più semplice a farsi che a dirsi Meglio ancora Nella prossima video tutorial Vedremo come importare ed esportare i sottotitoli Perché ovviamente noi abbiamo la necessità anche di esportarli i sottotitoli Per magari condividerli con altre applicazioni O con altri colleghi E così come potremo importarli i sottotitoli Se il lavoro di sottotitolazione l'ha fatta magari qualcun altro Qualche nostro altro amico o collaboratore Per il momento vi ringrazio www.fabioambrosi.it Li troverete anche il corso dedicato ad After Effects Iscrivetevi a questo canale YouTube Se vi fa piacere cercatemi su Facebook La pagina è Fabio Ambrosi Grazie al prossimo tutorial